Om Shanti Om Shanti Avraktwani Ahtaramai 1969 Ruhani Jnani Yoga Ke Jyotishi Chodava point Yadgar rup me Antim Chitr Kaunsa Dikhaya hua hai Pahar ko Anguli Dene ka Anguli Ya Shakti ki Dene hai Isse hai Kaliyugi Pahar Khatam ho ga Isse me Harek ki Anguli ki Darkar hai Abhi Vah Anguli Puri Riti Nahi hai Uthate Zarur hai Paranthu Koi ki Kabhi Sidhi Koi ki Kabhi Tedi Ho Jati hai Baba Kekhata hai Ki Yadgar Rup Me Yadgar Rup Me Antim Chitr Kaunsa Dikhaya Hua Hai Pahar ko Anguli Dene ka Sabhi Bacchya Apanese Pooch Kiki Pahar Ko Anguli Dene Me Ketan Saksham Hai Bacchya Bacchya Jai Se Bacchya Se Pooch Raha Hai Khi Aap Anguli Dene Ke Lie Kitina Tiyar Ho Apanese Pooch Apanese Pooch Anguli Jai Shakti Kiki Dene Hai Aap Kitna Shakti Svaroop Bane Ho Jho Baap Ke Kariya Ko Anguli Dene Sak Tee Ho Kariya Vishwa Parivartan Ka Hai Kariya Baap Ka Hai Isse Anguli Dene Shakti Svaroop Ho Na Padhe Gah Abhi Bhi Aagar Aap Ko Shakti Ki Zerrurat Hai To Aap Baap Ko Kya Shakti Dene Aabhi Bhi Aagar Aap Kamzor Ho To Baap Ka Kariya Kya Kari 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 Sama Kari 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 Aabhi Bhi Aap Kari 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 того Kari Kari B cannons ho Kari Kari Ban Aap Kari 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 non funziona bene che non funziona come attrazione come attrazione siукannate prima la training dovremmatelo a fare dopo la posizione dovremmatelo a fare faccio prima la parte dovremmatelo a fare allora se volete attraverte attraverte ma per la vita che volete attraverte 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 ora anche il vostro tempo è rimasto a fare un'acchia, quando fare un'acchia, quando fare un'acchia? Bacchia abhi bhi bacchepan me hai Unhè s'mai chahiye aapne liè Gio aapne liè gietà hai Voi kabhi dùsero ke liè gii nèhi sattà Aapne liè giina vana swarth bhaovna Jiske man me swarth hai Voi kabhi vishwak aliyan nahi kar sakta Vishwak aliyan karne ke liè Niswarth avasthah ki avasthakta hai Niswarth avasthah banane ke liè Aapne ko sampann banana padega Jab tak aap hii sampann nahi ho To dunya ko sampann kaas se banayenge Abhi tak aap ko hii thik honne ki avasthakta hai Aap dunya ko kese thik kar paayenge Bacchia kehtetay to hai Ki pahar ko angguli dhenne ka kariya Hem kar rahe hai Lekin kya aap utni saksham ho Ki pahar ko angguli dhe saken Aur agar nahi ho To kab banenge Angguli to dheni padegi Kyokhi baba kehta hai Mera akelie ka kariya nahi hai Raja tumhara hai Raja hai tum bhognay wale ho Mena bas guide ho Nimitta banke Mena tumhe guidance kar raha ho Guidance dhe raha ho Gyan dhe raha ho Par banna to tumhe hi hai Samaj ki baat hai Baccho ke liye Raja mani nahi banonga baaba keita hai Tum banonga Islaya angguli tumhe hi Dheni padegi Or angguli dhenne ke liye Shakti svaroopa banna Padega Nahi banenge Angguli nahi Dhe sakenge Jis bachche me Jho expertise hai Jho kala Jis se o sampan na hai Usse o sewa kar paayega Baap ke agyaman Varna aap Sewa lete rehenge Kabhi karenge nahi Lete rehenge Sewa karna manna Angguli dhena Lekin sewa karne ke liye Aapki avasthah Uteni badhi chahi Bina avasthah ke Sewa nahi ki jati Jab tuk Aap baap ki Shremat par nahi Chalte Bava nai kaha hai Tub tuk Aap sewa ko Hath nahi laga sakti Shremat se hi Sewa hooti hai Manmat ya Parmat se Sewa nahi hooti Tuh aapne Kuch ek karo Aap kitne Shakti svaroop Buna hai Isse hi Kaliyugi pahar Kaliyugi pahar Kaliyugi pahar Kau kutam karna hai Tuh har kisiko Aunguli dheni Padhegi Shakti ki Aapne Aapne shakti svaroop Aapne Aapne Tab jake Yaha kaliyugi pahar Kutam 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 Buna Kutam 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 ma ma che si 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 ma il ciò che ho fatto ha fatto il mio l'accio che ha il mio l'accio il mio il mio l'accio il mio l'accio che ha il mio l'accio il mio l'accio il mio l'accio quello che si non ci che schemati il nostro bottiglia un'esperto si si U�'istica più capacità, più attraverte, più attraverte, ho fatto. Vabbà mi diceva, questo è un giocatore. A te hai un'unico con cui ha d'accare, perché il regno è il regno. Il regno è avuto. Il regno è avuto. Il regno è avuto. Il regno è avuto. abhi angguli kawan se kambi viciar ki jai angguli hai khusy ki shanti ki anand ki jab jab aap bacche khus ho bapke is kariya me angguli dè rahe ho jab jab aap bacche aapni stiti me ho bapke is kariya ko angguli dè rahe ho jab jab aapki avastha shanta svaroop anand svaroop hai aap angguli dè rahe ho jab jab aap bacche bapki yaad me ho pura hati laga raha ho pahar ko uđthane me lekin jab jab isse viparit ho jaysse body consciousness me ho baapki yaad me nai ho sansar ki yaad me ho ashant ho duchhi ho tb 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 na sirf aap aap aapni angguli ko niche kar raha ho balki aapke aapke aaspaas jitnye bacche hai un sabhi ko un sabhi ko angguli ko bhi aap niche kar raha ho aapke negative vibration se ab aapke k Iviparit avasthah se in cui si ti coi anche necce la rè questa bogella molto bada dappi che grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti